L'esperienza della fede non è una garanzia che ci preservi dall'esperienza del dolore, della sofferenza, anche delle difficoltà della vita di ogni giorno. Noi ogni giorno, anche se abbiamo celebrato da poco il triduo pasquale, stiamo vivendo l'esperienza del tempo di Pasqua, incontriamo il dolore, incontriamo e sperimentiamo la nostra fragilità. La fede non ci esonera dai conflitti, dalle paure, dai turbamenti. Così è stato fin dall'inizio. Nella comunità cristiana primitiva, come ascoltiamo nella prima lettura, tratta dagli atti degli apostoli, si scopre che anche i primi cristiani, la prima comunità cristiana, vive l'esperienza del malcontento. C'è una specie di mormorazione, perché tra i gruppi che provenivano dalla lingua ebraica e dalla lingua greca c'è un'incomprensione, soprattutto a proposito dell'aiuto da dare alle persone in difficoltà, in questo caso alle vedove. C'era una specie di discriminazione, le vedove dei greci sembravano trascurate. Quindi difficoltà in questo contesto, all'inizio della vita cristiana. Difficoltà, non malcontento, ma in un certo senso paura, turbamento, esiste anche nell'esperienza che i discepoli fanno con Gesù. Sono già da tre anni insieme con lui. Mentre Gesù annuncia il suo distacco, siamo alla vigilia della passione, siamo nel contesto dei discorsi di addio, i discepoli provano un turbamento. Non siamo garantiti, ma riceviamo la grazia di affrontare i conflitti, di attraversare i turbamenti e le paure. Difatti, la prima comunità cristiana reagisce davanti a questo malcontento, questa mormorazione. I dodici non si chiudono risentiti, non accusano, non si bloccano, non si irrigidiscono, ma affrontano il problema. L'affrontano riunendosi fra di loro, mettendosi in preghiera, chiedendo luce dallo Spirito Santo e in questo modo diventano creativi. Scoprono che c'è posto per tutti nella comunità. C'è posto per chi annuncia il Vangelo, per chi guida la preghiera e per chi si occupa specificamente dei poveri. Allora istituiscono questa nuova forma di ministero che sarà poi il diaconato. Quindi un momento di difficoltà da cui non siamo garantiti, ma che si può vivere con la grazia del Signore, con la potenza della Pasqua e diventa un momento di creatività. I discepoli, il momento è davvero difficile, Gesù annuncia il suo distacco e loro provano paura e Gesù subito dice come reagire davanti a questa paura e fa un appello. L'appello è chiaro, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Un appello che poi ripreterà più volte in questo stesso brano di Vangelo che ascoltiamo, continua a dire credete in me, chi crede in me. È un appello ad appoggiarsi su di Lui e sul Padre perché solo Lui e il Padre sono una roccia sicura che ci permette di essere anche nelle difficoltà forti, appoggiati su una roccia sicura. Ma i discepoli non risolvono immediatamente la difficoltà ascoltando questo appello di Gesù perché qui abbiamo tre obiezioni, tre discepoli che ci rappresentano tutti. Pietro di cui non si parla in questo Vangelo ma appena prima dice dove vai Gesù, vive questa incertezza, avrebbe desiderio di seguirlo sempre ma poi sappiamo che troverà molti ostacoli in questa sequela. Tommaso, Tommaso vorrei venire con te ma non so dove vai, Tommaso ha il problema della conoscenza cioè di conoscere la strada, di conoscere la via. Filippo, Filippo dice mostraci la meta, desidera sapere dove, sa che va dal Padre, ma faccela vedere questa meta, facci scoprire il Padre. Gesù risponde parlando di sé e quindi invita ad avere una relazione con lui e con la verità del suo essere, rivela quindi la sua identità e dice io sono la via, la verità e la vita. Questa è la rivelazione della sua identità, interessante perché la sua identità è un'identità non statica, non chiusa nel suo io perché parla del suo io come un io in viaggio, in cammino, non statico quindi dinamico, aperto e dice così io vado ma vado dal Padre e là dal Padre vado per preparare un posto per voi perché il Padre è uno che ha molti posti, ha un posto per ciascuno di noi, la casa del Padre è una casa ospitale e un'ospitalità così grande che nessuno è escluso, c'è un posto per ciascuno di noi, vado a prepararvi proprio questo posto destinato a voi perché nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, questa è la sua santità, la sua grandezza, ma interessante vado, mi allontano, mi distacco ma mi distacco per voi, vado là dove per voi ci sarà un posto e vado proprio a prepararvi questo posto ma poi torno, ecco in che senso Gesù è la via, Gesù apre dei cammini, si distacca ma per noi, ritorna per noi, vado a prepararvi un posto, vado dal Padre che ha molte dimore, poi tornerò da voi e vi prenderò con me perché restiate sempre con me, questa via è la via di una relazione permanente, è una via che prepara per l'altro la sua posizione, il suo posto e in questo senso si scopre anche in che senso Gesù è verità e risponde così alla domanda di Tommaso soprattutto che vuole sapere, vuole conoscere la verità e dice a Tommaso Gesù il sapere la via è rapportarsi con una persona perché la verità si scopre in una relazione perché la verità è sempre una rivelazione e la stessa cosa dirà Filippo, guarda che la meta si scopre attraverso il viaggiare insieme, è per rivelazione e la rivelazione accade sempre in una relazione, in una vita vissuta insieme, in questo senso Gesù è la vita, allora Paolo questo lo scoprirà in modo radicalismo quando dirà per me vivere Cristo, più faccio posto a Cristo, più dimoro in Cristo, più lascio dimorare Cristo in me, più vivo, ecco l'appello, non credi tu questo, credete, chi crede avrà la vita piena perché vivrà nella relazione con Gesù la scoperta del volto del padre, la scoperta della propria identità come un'identità dinamica aperta, sciolta, la scoperta della meta di tutte, del senso di tutta la vita. Allora la conclusione di questo testo di Vangelo molto bello è interessante, Gesù ci vuole davvero liberare da quella presunzione di voler sapere, di voler sapere da se stessi che procura soltanto malcontento, malinconia, vuole che noi siamo pietre vive, non mattoni, non persone rigide, vuole che viviamo un'esistenza aperta, come è aperta la via della sua vita, vuole che diventiamo anche noi casa ospitale, dimore ospitale, non appartamenti chiusi. E la verità finale che ci rivela, la rivelazione finale che ci dà in questo brano di Vangelo è interessante, per non cadere in questa presunzione che procura malcontento, malinconia, che procura anche turbamenti o paure che ci rigidiscono, dice Gesù lasciamo che lui compia le sue opere in noi. Il testo è veramente bello, dice le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il padre che rimane in me compie le sue opere. Cosa dice di sé Gesù? Dice che lui non dice nulla da se stesso e non fa nulla da se stesso, dice le parole che il padre gli dice, quindi per rivelazione anche lui, e compie le opere che il padre stesso compie in lui. Allora noi che pretesa abbiamo di partire solo da noi stessi e di compiere le nostre opere? Chi crede in me lasci a me di compiere in lui le mie stesse opere. Le opere che io compio saranno opere che aprono ancora sentieri nuovi, perché dice ne compirà più grandi di questo, non perché noi siamo più grandi di lui, ma soltanto perché lui continua a lavorare in noi e così come è successo nella lettura degli Atti e degli Apostoli, lasciando lavorare l'uno in noi, nascono cose nuove, le stesse cose che sono necessarie per le nuove situazioni storiche.